ecco vediamo roccia che sta spiegando come pescare alla mia bu lui cosa che spiegherà io per Dio? ecco vede deve portare la canna con il galleggiante 2L e 2G il nonno e il bambino li porti il bambino al nonno signora vedrà che non impara a pescare ma almeno glielo porta via mezza giornata faccia di merda